Noi abbiamo soprattutto il dovere come università di fare il punto anche sulla proposta che noi abbiamo, perché l'università non va per casualità. Abbiamo un progetto, stiamo cercando di realizzarlo. Quest'anno facciamo la presentazione anche di proposte come quella della Job Academy o del corso di laurea nuovo in LM47 che arricchisce la proposta formativa come già era avvenuta negli anni passati. Abbiamo anche in mente di promuovere alcuni master e poi soprattutto c'è questa crescita che abbiamo registrato della ricerca. Una università che fa solo didattica e non ha ricerca è un'università dimezzata. È una cosa che è stata fatta spesso in passato alle telematiche. Noi invece ci siamo differenziati proprio perché abbiamo dato da 3-4 anni a questa parte una grande importanza alla ricerca. Oggi abbiamo già nel primo periodo raggiunto un terzo degli obiettivi di ricerca che ci eravamo proposti. Oggi illustreremo un po' complessivamente tutte le parti che rappresentano un'università ormai in maturazione e in pieno cammino.